Non mi stancherò mai di ringraziare le ragazze, le età, voi, tutti quanti voi, gli amici del gruppo sociopolitico cristiano che ancora prima che nascesse questo comitato, sono guardiamo Paolo Merlo, erano stati... Ma allora, intanto per quanto riguarda la conferenza dei sindaci di Olbia, il nostro sindaco, ecco, si è fatto valere, è stato il primo a cui è stata data la parola proprio perché tutti sono concordi sul fatto che il nostro presidio ospedaliero è stato quello più penalizzato dal piano aziendale dell'ASL che è stato redatto il 28 dicembre. E il sindaco quindi ha messo in evidenza tutta una serie di criticità, con sé aveva una bozza che ha consegnato una bozza diciamo preliminare anche noi, chiamiamo così, non del tutto ovviamente esaustiva di quelli che sono i problemi del nostro ospedale. Infatti si è riservato in quella sede di via via portare a conoscenza della conferenza dei sindaci e quindi anche della ASL quelle che sono appunto tutte le criticità del nostro ospedale e quelle che sono le controproposte. e quindi dopodiché diciamo dopo che questa conferenza dei sindaci poi hanno preso la parola anche il sindaco di Tempio, il presidente del comitato del distretto di Olbia Antonio Satta e anche altri sindaci presenti e quindi la riunione comunque è stata aggiornata a se non mi sbaglio il 6 febbraio, il mercoledì 6 febbraio sempre alle 9 e mezzo. Dopodiché comunque finita quella conferenza col sindaco siamo partiti a Cagliari perché alle 4 avevamo appuntamento con il direttore generale dell'assessorato regionale alla sanità. L'assessore De Francisci non era presente ma perché era impegnata in una riunione di giunta e in quell'occasione abbiamo avuto un incontro di circa un'ora e mezzo e il sindaco lì proprio ha evidenziato come per la Maddalena ci sia proprio una necessità di avere delle direttive, una normativa proprio particolare perché proprio in ragione della nostra particolarità, in ragione della nostra peculiarità e quindi anche lì ha evidenziato tutte le criticità ma non soltanto del nostro ospedale anche le criticità soprattutto del fatto di vivere in un'isola vivere in un'isola è bellissimo però noi abbiamo delle difficoltà nell'accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie che altri concittadini che vivono sulla terraferma non hanno e quindi ecco perché la Maddalena dovrebbe essere trattata passatemi questo termine come un caso a parte e niente quindi siamo stati ascoltati dal direttore generale che ha avvallato diciamo le nostre tesi e ci ha garantito che si farà portavoce presso l'assessore di quelle che sono le nostre richieste e sembrerebbe che non ci dovrebbero essere problemi proprio in ragione della nostra peculiarità geografica che è un dato di fatto, è innegabile siamo poi unici perché rispetto a Carloforte la Maddalena è l'unica dove insiste un presidio ospedaliero che è vero che non chiuderà ma è anche vero che se dovesse passare quest'atto aziendale verrebbe ridotto verrebbe depotenziato quindi noi chiediamo intanto difendiamo quello che abbiamo e chiediamo ovviamente un potenziamento e via via faremo quelle che sono le nostre proposte adesso non sto ad entrare nel merito perché se no mi dilungherei tantissimo quindi questo è quanto è successo proprio in maniera, ve lo sto dicendo in maniera stringata quello che è successo a Olbi e a Cagliari e poi l'altro giorno l'altro giorno, ieri abbiamo avuto consiglio provinciale i rappresentanti in consiglio provinciale siamo io e Luca Montella lui è in maggioranza io sono in minoranza e proprio su una proposta su una mozione presentata da Luca l'ho firmata anche io ma Luca è il proponente praticamente questa mozione ricalca quella che è già stata fatta in consiglio comunale il 16 gennaio quando c'è stato il consiglio comunale aperto e quindi anche lì abbiamo si è fatta una discussione ma tutti i concordi maggioranza e opposizione al di là dei colori politici al di là delle appartenenze di Campanile tutti hanno concordato che la Maddalena ha una sua specificità che la Maddalena merita rispetto agli altri presidi ospedalieri galloresi merita un percorso sicuramente diverso e poi c'è questa raccolta di firme che a quanto pare sta andando molto bene adesso le ragazze i componenti del gruppo del comitato spontaneo salvaguardiamo il Paolo Merlo che è nato su Facebook ci daranno conto di quante firme da mercoledì quindi mercoledì, giovedì, venerdì in tre giorni sono state raccolte si fa un'ipotesi addirittura che ci sia stato il superamento di mille firme ed è un bel segnale ecco quindi l'Italia sedesta la Maddalena sedesta e dico sempre dovremmo essere sempre così uniti così coesi così determinati non solo nelle questioni dell'ospedale che la sanità è la base di tutto ma anche su altre questioni mi piacerebbe vedere i miei concittadini sempre così appunto uniti e coesi perché sono sicura e l'ho anche scritto da qualche parte che non ci fermerebbe nessuno se noi appunto fossimo sempre così determinati e così appassionati nel difendere quello che è il nostro Paese la nostra comunità la nostra comunità